Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi compagnia del bolide e non solo oggi si va di letame, metto semplicemente qualche ripresa dalla testa e non solo inutile parlare, vi lascio al video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Adesso grasso, grasso un po' anche qui, cardano e poi questo per ora sta fermo, devo anche pulire i vetri, fanno schifo Spettacolo il nuovo porta cardani Grazie a tutti 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 Grazie a tutti